Amici del soft libero open source, benvenuti o bentornati in questa 138esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie dal mondo del soft libero open source. Sono passato un po' di tempo dall'ultima puntata, ma è la prima puntata del 2023, quindi ci sta la piccola pausa dovuta alle feste. E' dovuto anche al fatto che se avete seguito la puntata bonus del 31 dicembre, sapete perché non ho registrato in questi giorni. Ma di sicuro vi state accorgendo anche adesso, in questo momento, dalla voce, non sono pienamente al 100% con la voce perché da dopo Natale, dal 27, ho iniziato ad avere raffreddore, mandigure e quant'altro. E quindi me la sono passata leggermente male. Però adesso mi sto riprendendo e fortunatamente sta ritornando la voce. Beh, iniziamo questa puntata, questa prima puntata del 2023. Apriamo questa puntata con due puntate, due articoli che sono stati pubblicati dal buon Luca della sua nuova rubrica open source games. E' una nuova rubrica che Luca dedica ai giochi open source che sono disponibili per Linux principalmente, ma alcuni sono disponibili anche per altri sistemi operativi. E in queste due nuove puntate che sono state pubblicate recentemente abbiamo due tipologie di giochi molto interessanti. I giochi di aerei e i giochi strategici. Il sottoscritto personalmente ama i giochi strategici e ho giocato a tutti quanti questi giochi che sono presenti nell'articolo di Luca. L'unico gioco che non ho giocato è quello lì che è stato pubblicizzato, è stato portato a conoscenza da parte di Pandaro, un utente, che ha pubblicato un gioco che sembra davvero interessante, Beyond All Reason. Che devo assolutamente recuperare in questi giorni. Voi ci giocate a questi giochi? Ci avete giocato? Vi piace o no? Che cosa ne pensate di questa rubrica di Luca? Lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Cambiamo ora totalmente il registro e passiamo a parlare di distribuzioni Linux. Se lo facciamo parlando di Mangiaro, che nel giorno di Natale ha rilasciato la versione 22.0 della distro. Nome in codice di Mangiaro 22.0 è Sicaris. Non ho mai capito dove vanno a prendere i nomi della distro, non ho mai approfondito. Comunque, questa nuova versione di Mangiaro è la prima distro ad essere pubblicata con XFCE 4.18, il cui rilascio è avvenuto ad inizio circa di dicembre del 2022. Le principali novità di questa ISO sono l'edizione GNOME, ha ricevuto l'aggiornamento al GNOME 43, viene fornito con la nuova versione dell'applicativo Layout Switcher, che è il tool di Mangiaro che ci consente di cambiare i layout di GNOME con un semplice click, che adesso ci consente anche di creare un nostro sfondo dinamico. L'edizione con KDE viene fornita con KDE Plasma 5.26 e KDE Gear 22.12 e, come dicevamo prima, l'edizione principale, quella con XFCE, viene l'arrivo di XFCE 4.18, ovviamente con le solite personalizzazioni adoperate dal team di Mangiaro, principalmente che sono personalizzazioni estetiche. Poi troviamo ovviamente l'aggiornamento di tutto quanto il parco software alla base di Mangiaro, e, comune a tutte e quante tre le edizioni, troviamo il kernel 6.1 con gli ultimi driver video disponibili sino ad oggi. Se volete aggiornare, se volete installare Mangiaro, scaricatevi l'ultima ISO e fateci un giro. Io ho abbandonato l'utilizzo di Mangiaro, sono spostato su Endeavor OS, ormai sono un utente felice di Endeavor OS, però ogni tanto un saltino lo faccio su Mangiaro, giusto per vedere come si stanno evolvendo le cose. Molti utenti criticano Mangiaro per via del fatto che introduce bug ulteriori ad Arch, quindi aggiunge bug ulteriori alla sua distro dalla quale deriva. Però io, diciamo che, in tanti anni di utilizzo, perché l'ho utilizzato anche per diverso tempo, non ho mai avuto tanti bug di quelli atroci. L'unica cosa che non mi piace di Mangiaro, come tutte quante le distro che vanno a personalizzare fortemente il tema, è appunto questa sua voglia di essere caratteristica nel tema, che spinge a mettere temi di icone e colori che sono di dubbio gusto. Comunque, fatemi sapere se a voi piace questa distribuzione, se la utilizzate, se la consigliate, lasciate un commento. Restiamo in tema di distribuzioni Linux e parliamo adesso di Fedora, che vedrà adesso l'arrivo di due nuove spin ufficiali in concomitanza con il rilascio di Fedora 38, il cui rilascio ufficiale è previsto per metà aprile del 2023, se tutto andrà bene, ma sapete come funziona con i rilasci di Fedora. La data è leggermente indicativa. Quali sono queste due nuove spin che sono state approvate dal Fesco, il Fedora Engineering and Steering Committee? Sono Fedora Sway, che utilizza Sway, il compositore Wagan di Spirito ID3, e Fedora Budgie, che utilizza Budgie Desktop, che sapete che è un fork, una reinterpretazione di Gnome Shell, che è attualmente mantenuto da Joshua Strobl, che è lo sviluppatore principale di Budgie. Quindi questo fa pensare che, fa auspicare che Fedora Budgie sarà una distribuzione basata su Budgie Desktop, davvero interessante, perché appunto lo sviluppatore principale di Budgie Desktop la cura, quindi immagino che sarà molto attento nella complicazione di pacchetti e quant'altro. Voi la proverete? Io di sicuro la proverò, perché Budgie Desktop è un desktop promettente, coniuga i punti di forza sia quelli di K10 che quelli di Gnome, è bello, sì, carino, ha il giusto appiglio, e va a colmare tutti quanti quei problemi che troviamo su Gnome Shell, che io proprio continuo a non capire le scelte degli sviluppatori. Concludiamo questa parte dedicata alle distribuzioni di Linux con una notizia davvero interessante, sì, perché è proprio il caso di dirlo. Sapete bene che nel corso degli ultimi anni è stato riportato nuova vita a Unity, da parte di uno sviluppatore indiano, un ragazzo, quattordicenne se non ricordo male, che ha rilasciato una nuova versione di Unity, ha fatto sì che Ubuntu prendesse in considerazione l'idea di rilasciare una nuova derivata ufficiale con Unity, e adesso lo sviluppatore che sta portando avanti il progetto ha deciso di fare un ulteriore passo nello sviluppo della distribuzione e anche di Unity, annunciando il rilascio di una nuova versione di Unity, Unity 7.7, cui rilascio avverrà in contemporanea dell'uscita di Ubuntu 23.04 Gunnar Lobster, che avrà un Unity senza Compitz. Sì, avete capito bene, il nuovo Unity non sarà basato su Compitz, è un misto di pacchetti da Alex, FSE e quant'altro, il pannello è stato completamente ridisegnato, riscritto, addirittura avrà anche il supporto a Wayland, non appena sarà completato il rilascio di Unity 7.7, e su Marcosbox ho pubblicato un articolo che vi fa vedere una serie di screenshot di questa nuova versione di Unity. Il layout, la nuova dash di Unity ricorda molto quella dei mock-up che erano stati realizzati all'epoca del sviluppo di Unity, che sarebbero dovuti arrivare e poi non sono più arrivati perché il progetto è stato abbandonato, introdurrà una nuova app di benvenuto, sono state fatte delle modifiche al pannello, con l'introduzione di un pannello chiaro e un pannello scuro, che sono più moderni, con un look flat che non fa mai male, è stato riscritto il sistema per le notifiche, quindi abbiamo un nuovo sistema per le notifiche, Unity Control Center è stato migliorato, sono state fatte una serie di modifiche quella che rendono il tutto più accattivante, in fine poi sono stati aggiunti un nuovo sistema di plugin per Unity, che consente di visualizzare i widget un po' come i desket di Cinnamon, sono widget scritti in Python e che possono funzionare di sopra dello sfondo, quindi ci sarà da sbizzarrirsi, anche perché tutte le librerie verranno rese disponibili aperte a tutti quanti, in modo tale che sarà possibile per gli utenti, anzi per gli sviluppatori poter scrivere i propri widget, poterli condividere e pubblicarli anche su un web store che li ospiterà, in modo tale da poterli riprovare, farli riprovare a tutti quanti gli utenti. E fatemi sapere che cosa ne pensate, è un fork inutile come dicono molti, a me, secondo me, è un progetto interessante, ne sentivamo la mancanza, ne sentivamo la necessità, no, però è bello vedere l'attività di uno sviluppatore giovane e promettente che riesce a portare avanti un progetto come questo, riesce a fare un prodotto che, diciamocelo, è anche migliore di certi desktop environment, quelli storici, quelli principali, almeno dal mio punto di vista, perché è molto più funzionale rispetto ai desktop environment principali, e sto parlando con, sapete bene con chi sto parlando, vabbè, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e andate a vedere tutta la galleria che ho pubblicato nell'articolo. In realtà questa parte dedicata al mondo delle distribuzioni Linux avrebbe dovuto avere un articolo in più, un articolo dedicato a Vanilla OS. Che cos'è Vanilla OS? Vanilla OS è una nuova derivata di Ubuntu realizzata da Mirko Brombin, che è lo stesso autore di BotGas, che di sicuro conoscete questo progetto. È uno sviluppatore italiano molto promettente che sa farsi valere, ha le idee chiare, quindi quando prende in mano un progetto gli dà un indirizzo ben preciso e ha realizzato una nuova distribuzione, si chiama l'articolo sviluppatore ovviamente, che va a dare qualcosa in più a Ubuntu. Quindi non è la solita derivata di Ubuntu che cambia soltanto il tema, ma va a introdurre alcuni concetti, va a introdurre alcune caratteristiche uniche rispetto alle altre distribuzioni e va a realizzare un progetto davvero interessante che spero nei prossimi anni riesca a prendere piede, riesca a farsi valere nel panorama delle distribuzioni Linux. L'attuale versione, la prima versione, questa prima versione di Vanilla OS è basata su Ubuntu 22.10. Vi dico soltanto che Mirko mi ha promesso un articolo per le pagine di Marcos Box ed è per questo motivo che non ho pubblicato nessuna notizia al riguardo perché aspetto con Anzi il suo articolo dedicato alla distribuzione nella quale Mirko gli ho chiesto di andare a approfondire un po' il concetto che c'è dietro a questa distribuzione come gli è venuto in mente e quant'altro. Spero nelle prossime settimane venga pubblicato l'articolo di Mirko e nel frattempo andategli a dare uno sguardo. VanillaOS.org è il sito di questa distribuzione andate a vedere quali sono le sue caratteristiche principali perché è davvero, davvero interessante. Poi vabbè, l'unica pecca è che utilizza Gnome puro però non tutto è perfetto, non tutti sono perfetti. Non c'è soltanto Linux nelle corde di noi amanti del software open source ma ci sono anche altri progetti e nello fatto di specie c'è un progetto interessante chiamato AIQ R1. Che cos'è AIQ? È un sistema operativo open source che mira a portare avanti lo sviluppo di BOS che era un sistema operativo per personal computer prodotto da B Incorporated negli anni 90. Se siete nostalgici di quella epoca dei computer BOS di sicuro lo conoscete e di sicuro apprezzerete AIQ. Questa nuova beta che è stata rilasciata perché è stata rilasciata la quarta beta di AIQ R1 migliora il supporto hardware di AIQ migliora la sua stabilità compressiva va a risolvere 8400 tra bug e ticket aperti da parte di richieste e miglioramenti da parte degli utenti va a migliorare il supporto a HIDPI va a migliorare il supporto ai driver Wi-Fi il supporto al tethering introduce un nuovo driver NTFS va a migliorare il supporto agli formati di immagine AVIF introduce poi l'ultima versione di WebKit aggiunge il supporto EFI a 32 bit effettua i porting delle applicazioni GTK3 come Inkscape, GIMP, GNOME Web eccetera è un progetto interessante mi sono ripromesso di provarlo di provarlo in una macchina virtuale perché non devo vedere se riesco a provarlo dal vivo c'ho sempre quelli ssd che vi ricordate che avevo detto che dovevo dedicare ai progetti e alle sperimentazioni per evitare di formattare sempre la partizione principale ancora sta lì verginello non è stato ancora messo sul file system cioè sta ancora non formattato devo trovare il tempo purtroppo non sto trovando il tempo tra lavoro e problemi casinivari nella vita reale e non riesco a metterci in mano e non riesco a provare altre distribuzioni mi sono fatto vecchio o sono diventato troppo impegnato non lo so o comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Iaiku se volete degli approfondimenti al riguardo e lasciate un commento ovviamente sulle pagine di Marcosbox e concludiamo questa 123esima puntata del podcast di Marcosbox con una notizia di servizio che di sicuro molti di voi non avranno non avranno nemmeno sentito parlare nelle opportune sedi perché da quel che ho visto in televisione non è stata riportata per niente questa notizia perché vedete il livello di attenzione anche del servizio pubblico a riguardo che è praticamente dopo due anni di onorato servizio l'applicazione Immuni è stata disattivata è stata disattivata il 31 dicembre 2022 e significa che l'applicazione adesso non è più presente sugli store di Apple e di Google non si riceveranno più avvisi se l'avete già installata se l'avete ancora installata non sarà possibile scaricare i nuovi green pass quindi potete tranquillamente rimuoverla è un peccato questa applicazione vi ricordate tutte le diatribe che ci sono state a seguito del rilascio di questa applicazione di persone che oh mio dio signora mia in una cosa del genere che mi spiano che a metterò mai in realtà era un'applicazione che aveva del potenziare era utile sarebbe stata utile molto utile nella gestione della pandemia ma non è stata bene pubblicizzata è stata molto oltraggiata dai partiti che partite dell'opposizione che hanno continuato a dire fesseria riguardo di questa applicazione c'è da dire che anche il governo italiano nel quel periodo non c'è molto creduto a questa applicazione non è stata sufficientemente pubblicizzata nel modo corretto e sarebbe stata anche un ottimo punto di partenza per portare funzioni sugli smartphone per combattere magari una futura epidemia come già abbiamo visto è successo che ne so in Corriere del Sud se non ricordo mai era proprio lì che avevano un'applicazione simile diciamo così per il contact tracing che era stata utilizzata per una precedente epidemia per un altro virus e che era stata poi portata subito aggiornata per seguire il covid non lo so in Italia come vi dicevo non ci crediamo a queste cose non era stata fatta funzionare correttamente personalmente io avevo anche quando avevo preso il covid avevo anche caricato i dati e se non ricordo mai in quell'occasione non erano nemmeno stati poi contattati i miei contatti cioè le persone che sapevo che avevano applicazioni installate con cui sono stati in contatto ancora non gli arriva nessuna notifica se non ricordo mai quindi è stata una cosa un po' un po' mal gestita da tutti i fronti è un peccato speriamo che speriamo di non dover utilizzare più applicazioni di questo tipo però speriamo che che almeno questa esperienza il codice dell'applicazione che è stato rilasciato magari possa servire da base in futuro per altri progetti simili in caso di bisogno facciamo sempre però le corna che non dobbiamo avere di bisogno però come dicevano i latini se vuoi la pace devi prepararti alla guerra queste cose bisogna bisogna tenere sempre in conto ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 138esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a iscrivervi alle pagine social di Marcos Box quindi a seguirmi su Facebook su Twitter su YouTube su podcast grazie alla vostra piattaforma di podcasting preferita a seguirmi magari sul profilo personale LinkedIn a seguirmi su mastodon neonato social concorrente a Twitter ma soprattutto vi invito a seguirmi su Telegram dove mi trovate con un canale dedicato alle notizie che potete utilizzare a modo di feed RSS se non volete utilizzare i feed RSS trovate poi il canale della community Telegram di Marcos Box dove potete iscrivervi e parlare di qualsiasi argomento non sfruttando il software libero infine trovate un canale dedicato alle offerte Amazon nella quale pubblico prodotti utilizzando il mio codice referral che potete utilizzare per supportare il blog se volete supportarmi anche diversamente se non volete se non volete acquistare per forza uno di quei prodotti presenti all'interno del canale Telegram dedicato alle offerte perché non sono uno di quelli spammoni pubblico soltanto offerte che ritengo siano veramente offerte potete comunque supportarmi utilizzando il codice Marcos Box meno 21 facendo acquisti su Amazon sapete come funziona il referral infine se volete supportarmi ulteriormente potete supportarmi anche acquistando una VPN che sia Surfshark che sia NordVPN o che sia Atlas VPN che sapete bene fanno parte tutte e quante della stessa famiglia sono state acquistate tutte da NordVPN trovate un articolo a riguardo su Marcos Box dove vi faccio vedere quali sono le principali caratteristiche le principali peculiarità di questi tre servizi VPN e se acquistate una VPN o rinnovate la vostra VPN utilizzando il mio link una parte del ricavato arriverà al sottoscritto anche se fino adesso non mi è arrivato niente comunque lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo forse la settimana prossima con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao ciao